Non so voi ma io non avevo mai ascoltato prima d'ora il suono del mare E' questo qui Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, sono felicissimo di ricominciare a fare video su questo canale Primo luglio, ci lasciamo alle spalle un mese di giugno praticamente pienissimo, davvero pieno 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 di cose Oggi direzione Milano Malpensa Siamo partiti con le prime luci dell'alba quando ancora Milano era fresca ma soprattutto vivibile E ci siamo goduti un bel po' di skyline che ci ha accompagnato fino all'arrivo in aeroporto Siamo arrivati a Milano Malpensa, colazio in Cina, un cornetto alla Nutella, caffettino americano e si parte Non so voi ma è bellissimo quando si riesce ad arrivare un po' prima in aeroporto e fare le cose con tutta la calma del mondo Ok siamo appena arrivati all'aeroporto di Zadar, adesso andiamo a ritirare l'auto e vi porto a vedere qualcosa di super super interessante Ciao a tutti ragazzi, ieri non ho più registrato poiché sono entrato in modalità vacanza e mi sono un attimo distratto E sono passate letteralmente 16 ore Per chi non l'avesse capito noi ci troviamo a Zadar in Croazia e stiamo facendo un viaggio on the road Ma su questo canale vorrei portarvi un contenuto in particolare Poiché studiando le tappe di questo percorso del nostro viaggio abbiamo scoperto che qui a Zadar c'è un'importante opera architettonica Che ha a che fare anche con la musica in modo molto molto particolare E infatti ve la porto a vedere Ah ovviamente se non ancora sei iscritto al canale Iscriviti Ci sono letteralmente, non lo so, 37-40 gradi e ho trovato un posto all'ombra tranquillo in cui raccontarvi un po' il senso di questo video Perché ho fatto tutti questi chilometri? E beh, innanzitutto per la vacanza ovviamente Però ho trovato qualcosa di interessante e forse unico nel suo genere Almeno non ne avevo sentito mai parlare prima di altre opere architettoniche simili Sto parlando dell'organo marino Voi avete mai ascoltato il suono del mare? Io no, è la prima volta in assoluto Oggi avremo la possibilità di ascoltare insieme il suono del mare Perché l'architetto Nikola Basic qui a Zadar nel 2005 Ha creato un'opera architettonica davvero super interessante Che esternamente sembrano soltanto scalini Ma in realtà nel loro interno ci sono un sacco di canne con diversa inclinazione Che permettono al moto ondoso di produrre letteralmente dei suoni Quindi in base alla corrente del mare otteniamo dei suoni diversi Eccoci qua, siamo arrivati Qui il suono del mare è letteralmente questo Ovviamente cambia in base al moto ondoso Come potete vedere oggi è abbastanza calmo Vi faccio vedere brevemente come funziona Abbiamo qui in acqua delle canne che non si riescono a vedere Perché sono letteralmente sott'acqua E il suono viene sprigionato da queste bocchette Qui ci sono anche delle feritoie In cui viene sprigionata dell'aria E delle vibrazioni davvero particolari E qui c'è lo stemma L'organo marino è stato realizzato per recuperare l'aria costiera di Zara Che era stata fortemente danneggiata nel corso della seconda guerra mondiale E mai riqualificata Che poi tra l'altro Zadar In italiano Zara Ma non il brand È il principale centro urbano della Dalmazia settentrionale Dove lo stile romano e quello veneziano si fondono con la modernità E questa cosa fa davvero molto strano Ma allo stesso tempo è molto molto bella Adesso vi farò ascoltare un po' il suono del mare in solitaria Quindi vi consiglio di mettere le cuffie Proprio per capire la bellezza di questo suono E lo utilizzerò sicuramente in qualche brano Poi vi dirò un'altra super chicca Non so voi ma io lo ascolterei per ore Comunque un'altra curiosità appena scende la sera basta letteralmente voltarsi dall'organo marino Per poter ammirare un'altra opera super singolare dello stesso architetto Chiamata Saluto al Sole Che è un imponente disco di vetro di 22 metri di diametro con ben 300 pannelli solari Che di giorno assorbono l'energia del sole E la notte si illuminano con giochi di luci che imitano il movimento delle onde Quindi è davvero qualcosa di molto molto bello Personalmente quello che mi ha colpito e mi ha fatto riflettere è la genialità di Basic Che con le sue opere oltre a conferire a lungomare l'aspetto di una mostra d'arte contemporanea a cielo aperto Ha saputo davvero combinare insieme elementi creativi e scienze della fisica con la bellezza e l'armonia della natura Cioè secondo me è un'idea super innovativa per le città del futuro Che dire ragazzi io vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine Noi ci vediamo molto presto E se non ancora siete iscritti al canale mi raccomando cliccate il pulsante qui sotto E se non ancora siete iscritti al canale mi raccomando cliccate il pulsante qui sotto